Le more, le bionde, le rosse e anche le nere ovviamente Qui da Ratti Auto ci piacciono proprio tutte Questa è Peugeot 108 Allure, vediamola subito Questi sono gli interni della 108, molto fighi Ciao Ratti Lovers, bentornati in questo nuovo video Oggi sono qui con Peugeot 108, questa è la versione con allestimento Allure 1000 di cilindrata con 72 cavalli, motore benzina di ultima generazione, cambio manuale Ci sono un sacco di optional tra cui la retrocamera, l'active city brake, rotino di scorta e tanto altro Questa è aziendale con 4000 km, raga, solo 4000 km Scoprirete di più su rattiauto.com, il link è in descrizione Questa e tantissime altre occasioni solo da Ratti Auto Bella raga, alla prossima